Una donna guida l'anno del centenario allo sferisterio, la prima stagione, quella del 21, era opera del Conte Conti, come ti senti in questo ruolo? Devo dire, è un arrivare a questi cento anni di un lavoro fatto negli ultimi quattro con un team, una squadra, era in ufficio tante donne, però a fianco due uomini, Luciano Messi e Francesco Lanzillotta, alla fine siamo questo trio che lavoriamo soprattutto negli ultimi anni. È un centenario ovviamente che racconta purtroppo anche gli ultimi anni che abbiamo vissuto, perché dobbiamo essere onesti e dircelo, perché sennò sarebbe stato un centenario ancora diverso, chissà quale, però sicuramente con un percorso più lungo, un lavoro fatto negli ultimi due anni, sicuramente tante attività che avevamo pensato di partecipazione, di coinvolgimento delle associazioni, tutte parole che in questo momento sono quasi proibite, partecipazione, inclusione, attività, sono tutte parole difficili. Però nonostante questo tante ne abbiamo messe in atto, perché fa parte proprio ormai del nostro DNA, il fatto di interagire con la comunità, con le persone, col territorio, quindi l'abbiamo fatto il più possibile, abbiamo lavorato con i commercianti, abbiamo davvero da mesi parlato di come interagire, hanno abbellito i negozi, hanno partecipato con noi, ad esempio, a scegliere gli spettacoli della Notte e dell'Opera, quindi ne hanno cercato comunque di interagire. Interagiamo tantissimo con i cittadini che avevano fatto il flauto magico del Gran Bic, con questa idea dell'opera partecipata, dell'opera fatta anche dalle persone che si ritrovano quest'anno in Aida, quindi insomma è un centenario fatto, credo comunque alla fine anche in maniera eclatante, perché l'Aida sarà un'Aida spettacolare, in senso si giudicherà bene o bene, bella, brutta, però sicuramente spettacolare. Ci sono più di 150 persone sul palco, che è una scommessa grossa di questi tempi, infatti abbiamo avuto proprio in questi giorni 30 colleghi di teatri europei che sono rimasti spaisati dal fatto di rivedere intanto un'opera in scena con regie, costumi, coreografie, ci sono 20 ballerini, cioè quindi davvero l'Aida come uno se l'aspetta e sono rimasti sorpresi dal fatto che tutto ciò succeda in un momento appunto così ancora complesso e in uno spazio così particolare come è lo Sferisterio, quindi insomma l'idea della partecipazione che è stato un po' il filone di questi quattro anni, anticipato ovviamente e già rivoluzionato da Francesco Micheli negli anni precedenti, è un po' la cosa che volevamo passare a questo centenario insieme a un'idea di multidisciplinarità, quindi l'idea del 100% per noi vuol dire davvero occuparsi dell'opera anche spezzettata, l'opera è un genere multidisciplinare dove c'è la danza, la parola, il gesto, la musica, la coreografia e noi in parte l'abbiamo messa tutti insieme in Aida che è proprio uno spettacolone ma in parte l'abbiamo spezzettata, quindi abbiamo tanta danza, tanti concerti, abbiamo l'Aida in diverse maniere, l'Aida grande, l'Aida piccolina per i bambini con un progetto che si chiama Black Aida e che andrà partendo dalla notte dell'opera sul territorio, sui monti e sui piccoli paesi del territorio continuando una tradizione che abbiamo iniziato da anni a cui teniamo molto, cioè l'idea che lo sferisterio vada fuori e incontra le persone fuori, peraltro in posti meravigliosi come Pieve Bovigliano, Sarnano e poi un'altra Aida che invece è una idea contemporanea che è l'altro appunto filone che abbiamo cercato di tenere in questi anni, cioè di rispettare la tradizione guardando al futuro e quindi abbiamo commissionato a Silvia Colassanti che è una delle compositrici, anche compositore, così manteniamo le due cose, italiane più conosciute in questo momento che ha ripensato una sua Aida attraverso una sua composizione, quindi il 100% è davvero occuparsi dei bambini piccolissimi come abbiamo fatto nella settimana inaugurale dove ci siamo occupati i bambini di sei mesi fino ai ragazzi di 15 anni e occuparsi un po' di tutte le sfeccettature che il teatro musicale e l'opera hanno dentro proprio Insite. Un'impostazione che sì viene dagli ultimi quattro anni allo sferisterio ma che comunque racconta un po' del tuo passato, insomma non è nato qui. Come è nata la tua passione per il teatro e che percorso hai fatto? Allora la passione del teatro è nata perché mio papà e mia mamma mi portavano a teatro da bambina, mi hanno portato alla Scala tante volte a vedere il balletto, l'opera l'ho iniziata più tardi sicuramente, quindi mi è rimasta dentro questa passione, noi siamo quattro fratelli e mia mamma ci faceva leggere come gioco, figuriamoci come gioco, ci faceva interpretare Shakespeare, ognuno aveva dei ruoli e quindi facevano questo gioco, perché mia mamma, anche se aveva fatto tutt'altro, però da ragazza aveva fatto un po' di teatro. Mie fratelli ovviamente hanno odiato tutto questo percorso, l'unica che è rimasta sono stata io. C'è il contrapasso, no? Come succede, però da allora ho iniziato così a occuparmi, in realtà io mi sono laureata in filosofia ma nel frattempo ho fatto la scuola della Paolo Grassi per organizzatori teatrali, ho iniziato a lavorare con Franco Quadrio, due persone nella vita che mi hanno segnato nel mio percorso professionale. Uno è Franco Quadri per quanto riguarda il teatro di ricerca, la prosa di ricerca e da lui mi ha davvero insegnato che il teatro è civico, il teatro necessita sempre di un senso, di un contenuto e ha un valore che va davvero al di là di una bella serata e questo proprio me l'ha trasmesso ed è stata una fortuna e a lavorarci a incontrarlo. Poi dopo ho iniziato a occuparmi di opere, da lì non ho potuto più abbandonare la musica, nel senso che lo sento proprio come una parte necessaria di qualsiasi spettacolo dal vivo che viene fatto, senza divisione di generi che lo trovo un po' stupido. L'altro maestro, mi fa piacere ricordarlo perché a me è mancato da poco ed è stato con me il primo anno al Macerato Opera Festival, anche Granviche. Lasciando tra l'altro un ricordo anche nei maceratesi che l'hanno conosciuto. Credibile, guarda devo dirti che purtroppo io sapevo, ho seguito tutto questo ultimo mese, che è stato anche un mese veloce di malattia, ma il giorno in cui purtroppo è mancato, eravamo una prova di Aida e l'abbiamo dovuto dire alle persone che c'erano, di cui c'era un cantante, che ha lavorato tanto con lui, quasi tutti hanno lavorato con lui, ma soprattutto i cittadini del Flauto Maggio, quindi è stato un momento davvero commovente. Però Vic mi ha lasciato e mi lascerà per sempre l'idea che l'opera fa parte della nostra vita, ci insegna tante cose appunto su una vita quotidiana e sulla necessità anche che lo spettacolo, l'opera sia qualcosa appunto di partecipativo, di insito nella nostra quotidianità, ma che ha anche un significato appunto civico e che anche l'opera può essere molto al di là della serata la scala in vestito lungo, ma è qualcosa che puoi sentire davvero sulla tua pelle. Questo credo che sia per me un insegnamento molto importante, da lui ho imparato questi progetti partecipativi, la voglia di condividere in maniera facile, senza tutti i parametri che servono ogni tanto per dei linguaggi che sembrano obsoleti o vecchi, in realtà invece l'opera parla molto di noi e del nostro quotidiano. E Macerata si sta effettivamente vestendo di opera anche nell'aspetto proprio visuale, in quello che vediamo in tutti i giorni per le strade, per esempio i negozianti stanno partecipando attivamente? Dire che con i negozianti da già da un po' di anni che stiamo lavorando, quest'anno abbiamo fatto un salto in più, abbiamo fatto due vie d'opera, nel senso che via Corso Cairoli e Corso Caburo sono proprio dedicate a delle opere. Una è l'Aida, l'ingresso allo sferisterio che è Corso Cairoli, dedicata all'Aida peraltro quella di Francesco Micheri che aveva fatto in occasione dei 50 anni e l'altra è Corso Caburo che è dedicata a Sansone d'Alea. Poi c'è il Centro che invece è più un'opera dedicata molto a Ugo De Ana e l'idea è quella di fare in modo che le persone che vengono da fuori abbiano questo senso che la città vuole il festival, la città accoglie il festival e quindi hanno addobbato, tagliando col comune alcune canne in giro per i canneti, hanno colorato le foglie d'oro, hanno allestito le vetrine con i nostri costumi facendo la citazione storica, quindi anche con un percorso che voglia appunto ricordare la storia di questo festival guardando sempre al futuro. Quindi davvero un ringraziamento a loro ed è per me che seguo il festival da tanti anni, da spettatrice, operatrice, da quattro anni vivendo la città in maniera importante devo dire un'emozione perché ogni negozio dove entro, ogni persona che incontro mi racconta della nonna, della figlia di, della cantante che ha fatto, del papà che faceva, la cosa più bella che quella da cui poi ero altro siamo partiti a studiare questa Ida con Valentina Carrasco, la regista della Ida appunto della prima, è che in realtà la città aveva fatto la Ida perché era una città che si apprestava a fare un'opera non l'avendola mai fatta, quindi i falegnami si sono trasformati in attrezzisti, le sartine hanno fatto i costumi e quindi questa cosa davvero la senti ancora dentro, tante persone mi dicono il nonno, il papà e questo credo che sia molto bello, credo che sia giusto come atto d'orgoglio. Pochissime ore, dalla prima qual è l'emozione, che cosa provi? Devo dire che è un'emozione, non posso dirlo, aiuto, però abbastanza serena perché siamo arrivati a questa produzione che è stata complicata perché anche le scenografie che sono state peraltro costumite, è un'Ida come si dice a chilometro zero, questa è un'altra cosa bella perché l'allestimento è stato fatto a Pesaro, i costumi sono stati fatti per la maggior parte, che sono costumi peraltro maestosi, tanti, più di 250, sono stati realizzati dal nostro laboratorio, dalle nostre sarte o se no da laboratori del territorio, quindi questo credo che sia un altro bell'atto di conferma che ormai invece questa artigianalità dell'opera è molto consolidata, poi c'è una bellissima collaborazione con l'Accademia che mi fa piacere citare che stanno facendo anche loro tante attività. Quindi siamo molto emozionati ma devo dire abbastanza convinti e sereni di quello che facciamo, sicuramente è un'Ida che racconta come dicevamo un percorso, cioè un percorso di scelte di prime legate a dei registi che vogliono dire qualcosa, dei registi che hanno così nel loro percorso un'idea di regia contemporanea, che poi contemporanea non vuol dire di rottura, non vuol dire che possa essere contestato, però dei registi che hanno dei pensieri che vogliono trasmettere. Valentina ha studiato la storia dell'Aida, ha studiato la storia di macerata e racconta in realtà come ancora oggi la città mette in scena un'Ida. Poi c'è una scenografia sicuramente particolare, ma peraltro c'è un'estetica, una poesia tra le luci, le scene, i costumi davvero importante che credo che possa appunto spaventare meno alcune persone che sono spaventate da non a vedere le piramidi, ecco giusto per dirlo. Comunque siamo molto contenti, le prove speriamo sono andate bene. Volevo fare un appello, visto che mancano poche ore, di venire vestiti con qualcosa d'oro, perché quest'anno, dopo tre anni di colori che hanno poi costruito la bandiera italiana, quest'anno il centenario è dedicato all'oro, perché è un colore ovviamente di festeggiamento, quindi so che non è facile, però bisogna mettersi qualcosa, che sia un braccialetto, un trucco, una spilla, ma è un modo, credo, insieme per festeggiare il centenario. Bene, quindi vado ad organizzarmi anch'io e non vediamo l'ora di vederla. A dopo.